si va agli ordini dello starter, tutto è pronto, partiti Arnad supera Don Aurelie, va in corda all'esterno Omond insieme a Checkmark Mammaela, Trump's Magic, Low Power con Checkmark che punta in avanti non deve fare nulla andatura, lo ha detto Dario Vargio dopo la sconfitta dell'ultima volta e va davanti a Omond e Arnad, Trump's Magic, Low Power che avvicina Mammaela all'esterno Lice Dame in coda, in corda di full swipe e Don Aurelie tira via Checkmark attenzione Checkmark in vantaggio, in buon vantaggio su Omond, Trump's Magic, Low Power Arnad, Mammaela, Lice Dame, la fuga di Checkmark e Dario Vargio nettamente in vantaggio a metà del bosco su Omond, Trump's Magic, Low Power, Mammaela, Arnad Checkmark in fuga per la vittoria, ha messo in difficoltà gli avversari che non sanno se inseguirlo al momento o aspettare e allora Omond che fa l'elastico con Trump's Magic, Low Power, Arnad, Mammaela, the full swipe Nice Dame in coda Don Aurelie, Checkmark è in fuga ancora, 6 di margine su Omond Trump's Magic, Low Power, poi all'esterno Mammaela, poi Arnad, Checkmark è ancora in vantaggio in seguito da Low Power, Trump's Magic all'esterno, prova anche Mammaela, andare a prendere Checkmark Mammaela, Fabio che affila la frusta per andare a prendere Dario Vargio che è un po' in difficoltà ma è in buon vantaggio, poi Nice Dame, Checkmark è in vantaggio su Mammaela e Nice Dame i conti giusti li fa Dario Vargio, Checkmark, Mammaela, Nice Dame Checkmark per Aldo Irobotti, l'aveva detto l'altro giorno, dovevo camminare di più, non mi dovevo adeguare ad aspettatevi, oggi la presa di volata e le scelte di tempo sono determinanti per il secondo Mammaela e Nice Dame vicini da dividere, ci pensa il giudice per il secondo posto la sensazione puramente televisiva, è un qualcosina ma siamo al limite della parità per Mammaela, ma qui c'è molto vargio in questa vittoria uno, foto tra 7 e 3, il Barbaricina, quindi al top weight, Checkmark è tutto Super sonico Checkmark in fuga a gambe elevate, poi ripreso lungo la curva da Dario Vargio nel finale a lunga sicuro, Dario volevi battere il record della pista? Sì, lo sai perché, perché come si suol dire, sbagliare è umano va bene però quando si capisce l'errore e dopo ci si rifà in questo caso come ho fatto perché l'ultima volta dovevo camminare di più, avrebbe fatto senz'altro meglio il cavallo oggi gli ho fatto fare quello che doveva fare l'altra volta e ha volato mai un dubbio sul risultato? mai un dubbio, mai, mai bravo Dario Vargio che vince con Checkmark il premio Barbaricina i colori della New Age, il training di Alduino Botti scusate ma a me, in azione dove la faccio? eh grazie grazie buongiorno grazie 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 Grazie.